Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori, è appena morto in un incidente, il campione dello sport, il mondo dello sport, è sotto shock per la triste quanto inaspettata perdita ad appena due mesi dalla scomparsa del ciclista svizzero Gino Mader, il mondo del ciclismo, perde uno dei suoi migliori talenti in erba, ci stiamo riferendo al ciclista belga Tilde Dedecker che ha perso la vita in un drammatico incidente d'auto durante un allenamento a dare l'annuncio della sua morte, è stata la sua squadra, la Lotto Destini che con un tweet ha rivelato e con grande tristezza che annunciamo la morte di Till in seguito ad un drammatico incidente in allenamento, la squadra è distrutta da questa notizia e invia tutto il suo amore alla famiglia e ai conoscenti in questo momento di incredibile difficoltà l'incidente è avvenuto in Belgio nei pressi di Anversa che era anche la città di origine del giovane talento, il primo amore di Marco Liguori ricorda un angelo volato in cielo davvero troppo presto, Tilde Dedecker scomparso a 22 anni in un incidente in allenamento, in allenamento investito da un'auto, amici di Youtube io vi ringrazio per l'attenzione, seguitemi anche sui canali Youtube secondo me di Marco Liguori e Marco Liguori, psicologia e crescita personale, ciao a tutti